Ed ora parliamo di attualità sportiva con le ultimiste sul calcio mercato, in studio anche oggi con noi Enrico Giancarli. Buon pomeriggio Enrico, allora. Buon pomeriggio Carmine, naturalmente un saluto agli amici che ci guardano da casa al TG8. Partiamo con una notizia ufficiale, una notizia che avevamo comunque già anticipato sul nostro sito internet www.rete8.it il prolungamento del contratto del difensore Riccardo Brosco che questa mattina si è legato al Pescara, ecco proprio la foto del sito della Pescara Calcio, fino al 2026. Quindi due anni di prolungamento del contratto per Riccardo Brosco, sicuramente un'operazione importante per dare continuità al lavoro fatto da Riccardo Brosco soprattutto tanta fiducia data al centrale difensivo che è sempre più coinvolto nel progetto Pescara. Quindi Riccardo Brosco ufficiale in maglia bianca azzurra fino al 2026 e questa è una notizia molto molto importante. A proposito di difensori, ieri Carmine parlavamo di Stivanello che era un obiettivo del Pescara, il centrale classe 2004 di proprietà della Bologna. C'era stato il forte inserimento della Juventus Under 23 che voleva addirittura acquistare il cartellino del giocatore ma alla fine non dovrebbe andare più alla Juventus Stivanello. Il Pescara è pronto ad accogliere il difensore classe 2004. Stivanello deve solo prolungare il contratto, probabilmente anche lui lo farà fino al 2026 con la società Rosso Blu il Bologna e poi tra questo fine settimana e i primi giorni della prossima dovrebbe arrivare a Pescara. Usiamo sempre il condizionale perché come sebbene nelle operazioni di mercato la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Di sicuro ufficiale invece Riccardo Brosco fino al 2026. A centrocampo questa mattina sul quotidiano Il Centro il nome nuovo è quello di Kingsley, giocatore di 24 anni, anche lui di proprietà della Bologna. Sarebbe un grandissimo colpo perché Kingsley ha sempre fatto Serie A con il Bologna, soprattutto tanta Serie B. Lo scorso anno massimo campionato austriaco se ne è parlato tanto proprio in occasione della trattativa per Stivanello. La stessa società per il Bologna non ci sono problemi, c'è da convincere il calciatore a scendere in Serie C. Qualora il DS dell'Icaro e il presidente Sebastiani dovessero riuscirci per il Pescara in Serie C. Sarebbe davvero un buon colpo ma continua il DS dell'Icaro e a sondare anche altre piste. La sensazione è che alcuni nomi top secret alla fine potrebbero essere quelli giusti. Sempre più vicino alla conferma di Luca Mora. Anche qui tanta esperienza che non guasta in un campionato come quello di Serie C in attacco. Calma piatta, la novità è che per Aristi Nicolai oltre al Cesena si sono fatte avanti in Serie C anche la Triestina e il Cerignola di Ivan Tisci. Per il momento nessuna novità sul fronte attaccanti centrali con Cuppone e Vergani che al momento restano in biancazzurro. Centrocampista come dicevamo sarà l'affare degli ultimi giorni, forse anche delle ultime ore di mercato? Io credo proprio di sì Carmine perché nomi come Kingsley sono nomi importanti. Se dovesse uscire una Serie B o comunque qualcosa di più stimolante per il giocatore rispetto a quella che è la categoria del Pescara potrebbero esserci sviluppi dell'ultima ora ma a rovescio della medaglia. Chi potrebbero esserci domenica, questo fine settimana, si giocherà un altro turno, il secondo turno di campionato in Serie B. Magari dei giocatori che vorrebbero giocarsi le loro chance, le proprie chance in Serie B per la seconda partita consecutiva verrebbero messi ai margini dei rispettivi allenatori da lunedì negli ultimi 3-4 giorni di mercato poi potrebbero aprire a piazze ambiziosi di Serie C e tra queste c'è il Pescara. Benissimo.